Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2023-2024 all'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Francesco Crispi di Ribera, guidato da quest'anno dalla nuova dirigente scolastica Maria Rosaria Provenzano. Protagonisti della manifestazione Gli Studenti di tutti gli indirizzi del Crispi, in una giornata all'insegna della musica, della lettura e della riflessione sui grandi temi d'attualità. Presenti le autorità civili, militari e religiose della città di Ribera è la ex dirigente scolastica Antonina Triolo. Oggi una grande emozione l'apertura dell'anno scolastico ufficialmente, anche se in realtà dal primo settembre che si lavora e si lavora lacrimente. Per me questo è un istituto veramente importante e anche a cui io sono legata da un punto di vista emotivo. Sono stata prima alunna, poi insegnante, genitore e oggi dirigente. Devo a chi mi ha preceduto, alla dirigente collega e amica Antonina Triolo, tanto perché ha avviato un lavoro che ha dato al territorio un istituto di tutto rispetto con un'offerta formativa veramente ampia. A me il compito, l'onore e il piacere, perché nasconderlo, di portare avanti questa offerta formativa e di rafforzare, se vogliamo, i legami col territorio. Vogliamo, auspichiamo, ci siamo dati come obiettivo quello di potenziare ulteriormente le possibilità dei nostri ragazzi, sia in campo, diciamo, didattico e rispetto alle loro competenze, ma vogliamo incidere anche nel connubio scuola-lavoro, perché siamo convinti che la sfida alla quale non ci possiamo sottrarre e per la quale non abbiamo più tempo, sia proprio quella di cercare di investire con i nostri ragazzi e di farli rimanere qui. Grande entusiasmo ed emozione tra gli studenti, aspettative e ambiziose per un anno scolastico che li vedrà coinvolti in tante attività. Gli auspici sono molto importanti e molto positivi, iniziamo questo nuovo anno scolastico con la presenza di una nuova dirigente, per me è già il secondo anno che ricopro la carica di rappresentanti d'istituto e devo dire che ci stiamo trovando tutti in molta sintonia e speriamo di ottenere dei risultati, degli obiettivi che possano migliorare l'aspetto della scuola e soprattutto la vita collettiva degli studenti all'interno di essa. È un momento emozionantissimo, sia per me ovviamente e comunque quest'anno ho l'onore di essere rappresentante di questo istituto e sia per tutti gli altri studenti, spero che sia un anno fantastico per tutti, con tanti progetti anche da parte della presa che quest'anno ci dà l'onore di nuove iniziative sia dall'ambito scolastico e oltre. E spero comunque, ripeto, che sia un anno fantastico per tutti. Questi anni sono stati veramente fantastici, la scuola mi ha dato molto sia a livello scolastico che sulla vita, diciamo, su come affrontare la vita. Quest'anno abbiamo veramente tanti propositi e siamo fiduciosi perché siamo veramente un bel consiglio di rappresentanti e grazie anche alla consulta. Pensando a questi cinque anni mi viene da dire assolutamente cinque anni di spensieratezza perché sono gli anni in cui noi cresciamo, la nostra adolescenza. Da quest'ultimo anno mi aspetto tante cose, tanti progetti, visto che ho la fortuna di essere rappresentante di istituto, abbiamo tantissime idee e cercherò di viverlo con la più leggerezza possibile. Questo è il nostro ultimo anno. La scuola in questi cinque anni mi ha dato tanto ed è come un trampolino di lancio dove noi tutti ogni giorno sogniamo il successo. Speriamo che sarà un bel anno per tutti, un anno sereno e di tranquillità. Sicuramente con la nuova dirigente ci impegneremo, con tutti noi rappresentanti, a fare in modo che tutto andrà bene, andrà nei migliori modi. Siamo pronti ad ascoltare tutti gli studenti in modo da ascoltare tutti e raccogliere tutti i problemi e disagi che ci sono magari qua a scuola. Un'offerta formativa assai variegata, quella del Crispi di Ribera, un istituto che rappresenta un punto di riferimento per un vasto territorio. Ci siamo convinti fermamente e estrenuamente che la differenza fra il sogno e un obiettivo è darsi una data e darsi una programmazione. Stiamo cercando, fin da queste primissime battute, di programmare con i nostri ragazzi le attività da portare quest'anno e soprattutto i propositi per farli rimanere nel nostro territorio come attori e protagonisti attivi della vita quotidiana.